vi preparate per la serata quindi nei vostri nei vostri vestiti più belli andate verso il verso l'accademia duellanti che per la sera diciamo è tutta quanta riadobbata come se fosse una gran palazzo per le feste sulla chat stanno succedendo cose sulla chat succedono cose commentiamo ma scusate allora no la felice conorò con le cose no adesso salta fuori che il bayoushi con la doji e kizune con gli ovetti e kizune beve con il granchio seratona tra amici kizune il granchio si va a consolare ok e niente tutta quanta l'accademia è ben sistemata a festa vedete una gran quantità di guardie di lumi ci sono addirittura dei fuochi sospesi probabilmente tenuti e tenuti invidia in vita da dei su genja che stanno che hanno pregato i cami del fuoco per illuminare la notte e quando arrivate ditemi voi come siete come siete vestiti qual è la vostra la eleganza per la serata diciamo acconciatura kimono colori sì ho già descritto prima colori del clan questo vestito elegante con sopravolpi dorate che saltellano in giro a questa figura particolare mitologica del clan della volpe che è la madre delle volpi una specie di via di mezzo tra l'essere umano e il mondo spiritico che alleva effettivamente questa questa gioiosa diciamo questo gioioso nido di 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 volpette che saltellano in giro io mi immagino diciamo la tenuta ufficiale degli shiba comunque un pelo più umile e meno appariscente di quello magari di altri clan alla fine sono un clan militare che è devoto alla protezione e all'essere un quarto di passo indietro dove possono intervenire con la spada ma non sono in luce quindi una concettura accurata fatta dai servi il kimono e tutto l'ambaradano del clan dai colori arancio bianco giallo colori caldi è un'area molto dignitosa ma poco appariscente azuko chiaramente in abiti in sete estremamente più ricco che si possa permettere probabilmente colori la parte inferiore cioè la parte diciamo inferiore è sul blu scuro con i dettagli delle delle cuciture in bianco e sicuramente la parte superiore invece è più sul chiaro più sul bianco ghiaccio quindi un bianco che tende all'azzurro con motivi floreali grigi dipinti si è così e i capelli neri sono acconciati in una a non in una in in due in due codini fatti in alto e parte dei dei capelli è lasciata libera diciamo sul viso e tenuta ferma con i capelli stranamente neri esatto tenuta ferma con una spilletta comunque l'ordine è importante il viso è sicuramente curato con del trucco bianco e sicuramente sulle labbra sono le labbra sono dipinte di rosso la parte centrale com'è diciamo fare il cuoricino esatto tipicamente diciamo inserito in un contesto del rocugan che ricordi il nipponico ok entrate e come al solito c'è il laraldo imperiale e i suoi delegati che vi spiegano un attimo come funzionerà la cena vi spiegano che all'inizio vi sarà un la cena è come dire abbastanza abbastanza informale nel senso che come dire verrà tenuta nei giardini dell'accademia in modo che gli ospiti possano parlare tra di loro possano possano interagire e questo probabilmente vi dice che comunque l'imperatore non sarà presente in questa parte della cerimonia della serata perché ovviamente si intrattiene con ospiti di più alto rango e invece la seconda parte della della serata che sarà quindi parte proprio della cerimonia del gambo q in cui voi porterete le pergamene con i vostri nomi e verranno queste pergamene affisse ad un muro dell'accademia e domani quando verrà nominato il campione di topazio solo quella pergamena rimarrà lì a fianco di tutte quelle degli anni precedenti la serata si concluderà quindi dopo questa presentazione ufficiale diciamo vostra e la fissione dei vostri nomi come promessa dell'intenzione di vincere il torneo si chiuderà il ciclo dell'anno precedente con l'uscente campione di topazio che riconsegnerà l'armatura all'imperatore e armatura che verrà poi data in premio al campione del torneo perché non so se lo sapevate ma il campione del torneo si prende un'armatura cerimoniale antica e sacra che è quella che viene tramandata di anno in anno in all'ero e anche il ovviamente il daisho come dire accompagnato dunque la prima cosa che succede è che venite chiamati a uno a uno e avete modo di parlare con Asakomae che è con lei che alla fin fine ha scritto le pergamene dei vostri nomi il monaco della fenice quello che era presente al vostro processo ed era con lei anche che ha fatto la prova di scrittura vi accoglie a uno a uno e vi consegna delle pergamene che probabilmente ha preparato nel pomeriggio immaginatevi grandi una sessantina di centimetri una volta aperte e arrotolate sui due lati sui due come dire sui due bastoncini che servono per per chiudere la pergamena e poi legarla con queste pergamene poi venite portati ai giardini in cui diciamo si terrà la cena e via via vedete cominciare ad arrivare vari vari ospiti vari dignitari sicuramente qui ci sono persone di una notevole importanza ci sono i vostri maestri ma ecco non ci sono i capi clan non ci sono non c'è campione di smeraldo non c'è il l'imperatore o altri insomma figure di livello che stavano in prossimità dell'imperatore ci sono anche gli altri contendenti ovviamente siete tutti quanti liberi di fare chiacchiere e di muovervi ma possiamo anche uscire oppure sì sì diciamo che il tutto è fatto all'aperto sostanzialmente nel senso che è fatto sui giardini dell'accademia giardini interni immaginatevi quindi una serie di giardini con dei porticati e poi con degli archi connessi gli uni agli altri magari immaginatevi due tre corti un po' come i chiostri delle abastie occidentali insomma dove poi magari un chiostro tramite un arco porta ad un altro e quindi è un giardino più ampio curato con le aiuole e degli alberi di ciliegio un altro che invece è un giardino zen quindi principalmente fatto di ghiaia pettinata e sassi un altro invece che è probabilmente il giardino degli uccelli quindi vedete che ci sono una serie di voliere molto ampie sparse con gusto qua e là nel giardino illuminati tutti quanti a lanterne e viene portato il cibo per la serata cibo che ha tutti gli effetti estremamente minimale perché comunque di etichetta ovviamente mica ci si può strafogare in un'occasione del genere quindi è assolutamente prelibato, ricercato ma come dire il riempirsi lo stomaco è l'ultimo dei pensieri in genere tranne che per Ida che vedete non disdegna la cucina pur presentandosi comunque con un buon decoro un'ottima veste che però vedete è fatta per riportare all'idea di un taglio militare un qualcosa di estremamente funzionale pur essendo ricercato probabilmente nel tipo di tessuto più che non nel taglio del vestiario io cerco Mirumoto Genshin per farci quattro ghiacchiere ops è morto guarda chi è morto no vabbè no delle cose del tipo sai chi non muore si rivede ah scusa è morto sai ha portato gli orecchi del suo maestro no vabbè no vedete che più che altro gli altri contendenti vi schivano un po' nel senso che non avanzano poi molti diciamo che Matsue prende un po' le distanze nel senso che non sapendo cosa sia successo e come stiano come stiano le vostre il vostro status alla fin fine se siate colpevoli di qualcosa o no vedete che tiene un po' le distanze nel dubbio Ida ha fatto qualche mezza parola appena voi siete tornati con Kizune e se tu ti avvi come dire è ben disposto nei tuoi confronti però sembra un po' sì sulla difensiva vorrei prima capire cosa è successo prima di aprirevi saluta ma non parla Bayushi sembra evitarvi nel senso che dopo avervi detto quello che vi ha detto e quindi sapete diciamo il suo come dire il suo stato non sembra abbia altro da dirvi e Utaku invece non è presente Bayushi è un kimono nuovo Bayushi vedete che è elegantissimo sì sì evidentemente estremamente curato ed elegante immagino che allora come dire la fiction porta a intrattenerci tra di noi sì considerate che la volpe effettivamente magari all'inquisire dell'Ida non gli proferisce più di tanto di quello che è successo dunque lasciandolo un po' così sospeso in aria cosa che probabilmente non gli piace dunque finisce di ammicare con lui perché è così difensivo un po' insolito visto che sono diventati compagni e cerca di avvicinarsi ai suoi compagni di caccia di prima all'onorevole Shiba e Doji hai detto caccia intendevi sfiga e Oroco? ah è vero la mia beniamina ero dimenticato di Oroco ok Oroco è presente è evidente che non ha come dire una veste degna di questo nome questo è un ricevimento in presenza dell'imperatore dunque chiunque ha sfoggiato il meglio che aveva evidentemente anche lei però diciamo evidentemente per quanto ben tenuto sia vedete che la veste ha il confronto più che altro con le altre che sono sfoggiate specialmente nel momento in cui vi guardate intorno e vedete dei diplomatici della Fenice della gru con queste sete ricercatissime probabilmente provenienti dai terreni della mantide e cose così il confronto evidentemente la schianta abbastanza anche perché come dire finché siete in vesti in vesti ufficiali come dire in vesti da samurai quindi pronti anche a combattere eccetera eccetera il suo portamento marziale viene in qualche modo giustificato e in qualche modo attenuato nelle vesti invece di invitata ad un ricevimento galante si dimostra come dire pesante ed impacciata per quello che è e allora dato che noi siamo allo stato attuale cioè almeno io sono allo stato attuale della cosa e probabilmente è che gli altri un po' gli indesiderabili o quantomeno quelli che puzzano sì abbiamo un alone di cos'è che dicevi prima Shibasan sfiga allora io io proponderei per far sentire Oroco meno a disagio pensavo io proponderei quindi per prendercela con lei e dunque se la vuoi fare sentire meno c'è più su agio detto questo comunque scusami ha un atteggiamento assolutamente congruo ed educato non è che sia disonorevole è che ovviamente qui su questo terreno come Ronin denota evidentemente i suoi limiti è praticamente a colloquio con il Presidente degli Stati Uniti vestita con una canottiera each and them no in realtà vestita con un con un taglier che ha comprato però a discount capito cioè l'intenzione c'è di presentarsi elegantemente manca il buon gusto e il denaro per arrivarci però l'intenzione c'è è il famoso frac preso in affitto esatto 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 però almeno lo sforzo come dire è evidente e vabbè allora tra indesiderabili mentre ci avviamo verso Adoroko Kitsune si liscia i capelli che sono leccatissimi i suoi capelli neri e corti e guarda i suoi compagni e è un po' così nervoso con fare volpesco dice beh spero che la mia testimonianza alla fine non vi abbia messo troppo in difficoltà onorevoli alla fine ho detto solo la verità magari ho tralasciato che ho anche voluto correre rapidamente di ritorno al dojo per riportare l'ovetto però non mi sembrava il caso di fare una discussione sui tabù dei Kitsune Shugenja direi che il vostro comportamento come quello di tutti noi altri sia stato effettivamente l'unico possibile entro i limiti che ci sono imposti dall'onore pertanto vi esimerò, vi eviterò di ascoltare quello che penso di quanto è accaduto e del caro estinto lui lo prende quasi così come un tutto bene no? e allora si solleva e sorride io invece stavo sorridendo e quando Doji cita Kenshin invece mi rabbuglio un minimo tornando a guardare avanti a me mentre cammino e rivolgendosi al tuo abbuglimento ti dice beh l'onore è stato soddisfatto è stato soddisfatto l'uscito ma sono stati soddisfatti anche i tabù ed è molto baldanzoso e fiero e cerca il suo maestro con lo sguardo e comunque probabilmente a quel punto arriviamo vedi che il tuo maestro si sta intrattenendo con un diplomatico dell'amantide ma lui è grigio come sempre? no vedi che come dire abbastanza non impacciatamente però si intrattiene in buoni discorsi probabilmente non sta parlando di politica perché lo vedi abbastanza rilassato quindi sai che è assolutamente ben educato e formale però non è un gran diplomatico e non è a tutti gli effetti mai stato insegnato di tale ruolo quindi come dire se sta parlando così fluentemente probabilmente è perché o ha qualcosa di interessante oppure semplicemente sta passando del buon tempo come si dice o almeno così pensano i suoi partner di colloquio nel momento in cui Oroko ti vede avvicinare Shiba vedi che ha un arrossamento delle guance prima sorride poi ti guarda estremamente preoccupata rammentando un attimo i fatti della serata Doji nel momento in cui tu chiacchieri con Kitsune in questo scambio di battute il tuo sguardo va guardandolo probabilmente qualche passo più avanti di te o più indietro di te il tuo sguardo lo vede più o meno a mezza figura ti rendi conto che al lobby, alla cintura non porta la pergamena che tutti quanti avete ma ha un altro tipo di rotolo probabilmente un qualcosa ma la carta è evidentemente scadente sembra un qualcosa di raffazzonato lì altra cosa ovviamente nessuno ha armi qui ma neanche il wakizashi adesso che lo menzioni perché siete in presenza dell'imperatore sarete in presenza dell'imperatore quella cosa che lei tiene, scusa è un incantesimo? è una pergamena da incantesimo, da magia? chi? perché io le conosco o Rocco? hai detto che ha una no 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 tutti quanti avete la pergamena col vostro nome quella che vi è stata consegnata mentre tu Kitsune hai un qualcosa di diverso Doji quando ti parla vedi che hai qualcosa effettivamente dove avevi messo la pergamena ma non è quella Doji sei tu che ti rendi conto di questa cosa ok io l'ho visto che però l'ha presa si si l'avete presa tutti quanti insieme adesso che gli stai parlando ti cade l'occhio e vedi che c'è un qualcosa un rotolo probabilmente si è pergamena ma è cartaccia io mi accosto per quanto possibile senza che diventi una cosa contro etichetta insomma a Kitsune metto la mano davanti alla bocca e gli dico forse dovreste controllare meglio la vostra il vostro nome tu non hai finito di dirlo che ce l'ho già srotolato e lo guardo ok forse anche con abbastanza tipo foga perché ho come la sensazione come se fosse un incantesimo o qualcosa del genere e non fosse la pergamena originale e poi lascio cadere il sorriso volposo e felice e saltoso con il quale sono entrato e divento abbastanza cupo perché quella che tieni in mano in quella specie di cartaccia è diciamo il listino della casa dell'acqua avvelenata ok oh mio dio e senti una risatina provenire da un punto indefinito del giardino e tu hai presente quella risatina lì cos'è? sì no è una risatina che viene dall'aldilà la stavo aspettando durante tutto questo tempo e deve venire proprio adesso e dunque dovrei mettere il listino del sake avvelenato lì sul muro con i nomi di tutti gli altri effettivamente è un po' una brutta storia e chiaramente immagino che la calligrafia del nome sia una roba superiore proprio beh sì diciamo che l'hanno fatto fare a un come dire ad un calligrafo che parla tu per tu con l'imperatore quindi avete presente il valore di quella cosa lì no? è praticamente un caravaggio sì mentre la cosa che dovrei attaccare sul muro c'ha sopra tutti i gusti di sake e tè eccetera eccetera macchiato magari sì sa che è macchiato vabbè sai che cosa tempestosamente lascio qualsiasi discorso che sta venendo qui dentro e vado nel giardino da dove è provenuta la risata e cerco di individuare quel dannato spirito ok voi vedete Kitsune di colpo farsi serio e cominciare a muoversi verso un altro dei giardini e cosa fate? ma io sinceramente mi preoccupo tu ti sei resa conto che aveva in mano un listino di qualcosa l'avete visto che era una cartaccia l'ha visto anche Oroco se era lì osservo Doji con aria interrogativa io mi preoccupo perché la prima cosa che domando a a Shiba e a Oroco è ma chi è la prima persona con cui ha parlato? Kitsune Stan intendete? sì Oroco cade dal nulla perché fa conto che questo succede che eravate tipo ancora a 4-5 passi da lei lei si sta per avvicinare per parlarvi e vede uno che parte a razzo e tu che ti metti a parlare con con Shiba a quel punto apre il ventaglio vedendosi ventendosi di troppo e fa un mezzo inchino e si allontana per andare probabilmente a prendere da bere o qualcosa come se avesse lei interrotto qualcosa ma poverina comunque comunque soffro soffro dentro ma non posso darlo a vedere quindi soffro in silenzio Hideki prima di uscire Tempestoso lo ha detto lo ha detto che sa da dove viene questa cosa sa chi è stato qualcosa di tipo ancora loro sì esatto non io guardo Shiba e dico Shiba-san io non so esattamente che cosa sia successo ma metto la mano davanti alla bocca deve esserci stato uno scambio temo di non capire precisamente tocco la pergamena che ho io col mio nome vabbè osservo quella di Doji poi osservo la mia e poi do un colpo di testa diciamo indico con la testa verso il giardino e verso dove è andato Jitsune è il caso che interveniamo o sinceramente non ho ben chiara la situazione ma stando al peculiare comportamento del nostro giovane compagno di sventure quanto meno per tenerlo sotto controllo sarebbe adeguato il bello è che stavo proprio parlando dei tabù soddisfatti poi ovviamente mi deve fottere la cerimonia meglio seguirlo apertamente potremmo chiedergli che cosa sta accadendo non con troppo rumore annuisco un po' inebbetito Shiba non gli sta nemmeno passando per l'anticamera del cervello che l'ultima cosa di cui avrebbe bisogno sarebbero altri problemi e quindi molto apertamente si incammina in quella direzione Azzuco chiaramente si ha visto che la prima persona con cui Kitsune ha parlato è Ida sospetta di Ida no ma probabilmente con Ida avete fatto semplicemente un saluto e nel momento Ida ti aveva detto che avrebbe voleva capire cosa era successo e tu gli avevi detto che magari gliel'avresti detto in un momento di calma e su lui non è che ha fretta di pressarti semplicemente come dire ti saluta nel momento in cui tu non ti avvicini lui se ne frega abbastanza e continua a tentare di mangiare gli spietini di gamberetti sì il ranchio ci ha fregato un'intera famiglia quindi sono dei ladri gli yazzuchi mentre nel giardino si sta scatenando una battaglia spiritica con un esercito di scoiattoli demoniaci comunque ok allora nel momento in cui Kitsune tu raggiungi l'arco per l'altro giardino fammi una prova di percezione va bene che è investigare ok va bene ok ok investighiamo perché immagino che arrivi li e ti guardi intorno quella è la prima cosa prima cosa vediamo nel mondo fisico niente fai un note si si vedi un bel po' di gente in questo giardino e non riesce a focalizzare da dove questa risata viene poco dopo arrivano anche i tuoi campagni e niente siete tutti quanti lì Kitsune è arrivato con una certa fretta voi arrivate con un passo più calmo dando meno sull'occhio e vi riunite diciamo sulla soglia di questo secondo giardino mentre arriviamo probabilmente Kitsune senti un doji che intrattiene Shiba con delle chiacchiere e gli dice Shiba-san ma lo sai cosa fa un dragone morto niente è morto vabbè no no davvero sarebbe bellissimo e ci chiediamo perché abbiamo attratto l'attenzione degli spiriti comunque no più che altro io sono preoccupata perché vedo che lui comunque si sta guardando intorno come se effettivamente stia cercando un ladero e fa onorevoli anche voi sentite delle risate maligne e si guarda intorno come se le sentisse i suoi capelli che erano lisciatissimi e super leccati si scombinano un po' e incomincia a calare una goccia di sudore io lo osservo senza no fucking clue io apro il ventaglio e faccio si prova chi di voi si guarda intorno per come dire seguire lo sguardo di Kitsune fatemi anche voi una prova di investigation voglio voglio sottolineare che Atsuko ha detto si dietro al ventaglio quindi no cioè è la stessa certo investigation giusto come dire magari cercando di vedere visto che tu fai l'ipotesi di un ladro o cosa di cercare la pergamena addosso qualcuno o cosa io proprio ho tirato gli stessi dadi di di Kitsune ma proprio maledetti dagli spiriti assoluto è percezione giusto investigation intelligence ah intelligenza no scusami perception investigation perception scusa non mi ricordo quanto ho a due triste andiamo benissimo oh andiamo proprio bassi voliamo bassi ok e perfetto vi rendete conto della cosa quando a un certo punto vedete una una coppia che sta che sta parlando è un diplomatico del leone che sta parlando con probabilmente una una cortigiana della della gru e dietro la cortigiana della gru vedete lo vedete perché il lembo del del sovracchimono di lei si muove in maniera un po' un po' eccessiva per essere semplicemente mosso dal vento vedete una figura glabra alta mezzo metro con dei piccoli cornetti tozzi sulla testa e varie vari bozzi che la coprono il cranio di questo colore arancione e tu chizune la vedi la vedi subito e voi invece nel momento in cui guardate intorno a un certo punto la vedete come oscillare e diventare visibile come se il fatto di cercarla l'avesse resa visibile o volesse farsi vedere da voi vedete questa figura che ha la pergamena molto poco dignitosamente infilata in mezzo alle gambe e sta muovendo il bacino in modo assolutamente a mimare un gesto assolutamente evidente alle spalle di questa diplomatica della gru e vi guarda sorridendo come per dire ah 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 allora fa se glielo indicate lo vedete anche voi ed è ancora più preoccupato e fa fate finta di non vederlo buone fortune ma è disgustoso ed è l'esempio dell'oscenità la pittura dell'oscenità e questo è uno degli spiriti più belli di quel reame comunque se ne sa qualcosa di reami sapete che è un mugina uno spirito dispettoso si si cosa intendete fare io intendo approcciarmici facendo finta di non vederlo sai guardando in una direzione fissa seguendo il sentierino di sassi in questo giardino con la manicure perfetta e la mia idea è di poco decorosamente l'ultimo momento tuffarmi su di lui e prendere la pergamento sai che facendo così però ti sporcheresti i vestiti cerco di farlo sporcando il meno possibile non so diciamo che schiantarsi per terra io io riconosco i simboli sulla ammesso che ce li abbia sulla kimono della cortigiana e del suo interlocutore intendi quelli della famiglia allora lui è un mazzo e lei invece è una dai doce ok e allora ti dirò una cosa a livello tecnico perché ti ricordi che poi l'ultima sessione eravamo rimasti in bilico io ho fatto un errore ma non l'avevo vai e allora allora ti dico come li ho spostati perché ha senso dirtelo in questo caso no non ce l'ha e quindi andiamo avanti e no mi lancio in una conversazione con queste persone mi inserisco in modo da avere la loro attenzione sì tipo di che cosa stanno parlando lo riesco a sentire mentre mi avvicino piano piano sì stanno parlando del crescendo delle tensioni che c'è stato al confine nord tra lo scorpione e il e il dragone sembra per una questione di di confine una probabilmente un trasporto un attacco qualcosa stanno dicendo qualcosa su queste notizie che sono abbastanza confuse e diceva ma no ma era forse una questione diplomatica non stavano muovendosi da nord verso sud per portare notizie e quell'altro onorevole per quello che ne avevo informazione io invece era una dei banditi hanno attaccato un trasporto commerciale ma sembra che molto disonorevolmente in quella manovra non ci sia stato il supporto da parte dell'unicorno come ci si sarebbe attesi per difendere ciò che era di proprietà del dragone mi inserisco e in verità non è neanche questa la storia miei onorevoli ospiti e lei ti guarda ma proprio con trasporto e fa un inchino e dice onorevole doji abbiamo avuto modo di osservarla durante questo torneo non ci aspettavamo e si gira verso il suo compagno non ci aspettavamo di avere l'onore di incontrarla questa serata e lui fa un inchino e a sua volta si presenta rispondo all'inchino mi presento con l'emerito sconosciuto e sono fatti molto interessanti quelli di cui state parlando mi sono cercato anch'io di documentarmi nell'ultimo periodo poiché interessata alla situazione dei confini fluttuanti tra il dragone e lo scorpione si guardano sempre più stupefatti e fammi un tiro di cortile e qua te volevo perché ce n'ho messo uno ok oddio io nel frattempo osservo la scena con Kizune che sta per gettarsi ma Kizune ti fa un gesto cospiratorio come sai durante una battaglia ti fa un qualche tipo cenno di guerra nel senso accerchiamolo tu prendilo da dietro tagliali la via d'uscita perché non esca dal giardino da un altro arco e io poi lo prendo e poi Kizune parte cioè parte guardando una direzione ma pronto a balzare verso l'altra ok attacco il discorso e nel mentre parlo non so se il tiro me lo puoi far valere anche in questo senso nel mentre parlo li invito e li faccio li faccio sì sono molto interessata a questi confini fluttuanti tra i due i due grandi clan poiché in entrambe le zone esistono una gran varietà di risorse che potrebbero essere cui vicendevolmente potrebbero essere interessati e nel frattempo cammino come se mi stessi spostando verso il banchetto in qualche modo invitandoli a seguirmi a proseguire la discussione in itinere insomma sì sì beh ma come dire stavano già camminando e a quel punto se sei abbastanza come dire tecnica nella discussione da impedirgli il fatto di scaricarti lì loro per educazione devono devono venirti dietro il discorso è questo essere abbastanza bravi da non potersi da non permettere loro di sganciarsi vado vai vedo tanti dadi ed è un 17 ok d'altra parte sei anche una persona abbastanza conosciuta insomma hai Gloria 2 quindi non è facile scaricarti così così al volo e quindi sì tutto sommato ti stanno anche ad ascoltare più che altro per farsi vedere con con la pupilla del torneo quella che ha tutt'oggi probabilmente chiacchierata per essere il futuro campione di topazio e Kizune e Shiva voi cominciate a muovervi nella vostra manovra tanaglia e vedete che nel momento in cui Doji comincia a chiacchierare con questa coppia il il Mugina perde come dire perde interesse a questa a questa allusione sessuale con la pergamena e vedete che si distrae a questo punto guardandosi intorno e ne vedete comparire un altro lì poco distante che tiene in mano un bastone di legno in posa goffescamente parodica di quella che è una guardia di spada e vedete l'altro prendere la per estrarre la pergamena da in mezzo alle ginocchia e porla davanti a sé con un gesto terratrale come se fosse una catara e andare ad iniziare un duello ad arme con con quell'altro e sai che ovviamente la pergamena sbattendo sul legno della dell'altra finta spada potrebbe solo che andarne a peggio io stavo anche per pensare di chiedergli che cosa volesse quello spirito ma uno non oso pensare cosa mi direbbe due lo so benissimo cosa vuole fare vuole rovinarmi l'onore e la vita dunque sembra semplicemente che comunque si sia divertendo un sacco ok vedete che fanno questa questa promessa quindi fanno un un finto inchino e prima reinfoderano mettendole al fianco fanno l'inchino e vedete che stanno per partire per slegnarsi sulla testa probabilmente con usando la tua pergamena e un e un pezzo di bastone oh mio dio cosa fate io sono qualche secondo più indietro quando vedo la scena accelero un minimo il passo guardandomi attorno cerco di essere guardingo ma non è proprio il mio campo quindi allora il campistino boh sai che cosa tanto vale se dobbiamo mettere le mani per terra e sporcarci potenzialmente tanto vale farlo ber bene questo mi preoccupa io rivolgo quella pergamena e fate conto che loro sono alti circa un mezzo metro quindi immaginatevi questo con una pergamena di 40 centimetri in mano e ditemi proprio fisicamente l'azione vai nilo allora l'idea è questa io ho un incantesimo che mi permette di tuffarmi nella terra come fosse acqua l'idea è che io voglio tuffarmi nella terra prendere quel dannato sgorbietto dai suoi piedini spiritici come se fosse una radice che lo aggrappa e così magari il mio compagno Shiba riesce a togliergli la pergamena prima che facessero danni questi due ok è la maniera più decorosa che penso di poterlo fare l'idea è che la terra letteralmente diventa diventa come acqua per me nel senso che ci posso passare certo devi trovare un posto come dire assolutamente nascosto per fare questo perché sennò saresti come dire assolutamente sgamabile fuori luogo quindi un po' alla superman devi cercare la tua cabina del telefono per poter lanciare questo incantesimo però tu mi dici che non abbiamo non abbiamo non abbiamo io ho con me la mia porta pergamene oppure no direi che se gli altri hanno ceduto le armi non dovresti avercele considerando che però come dire questa è ancora la parte informale della cena lascio per per amore della fiction che tu ce l'abbia come il fatto che gli altri abbiano ancora i wakizashi perché sarebbe comunque come dire vessativo il fatto di fare di portarvi lì ma non per voi che siete nessuno per gli altri per gli altri presenti insomma quindi loro adesso hanno almeno il wakizashi al fianco no e probabilmente nella seconda parte quella in cui avete l'imperatore davanti lì nessuno sarà armato quindi lì anche tu non avrai il pergamene adesso probabilmente è semplicemente come se fosse una corte d'inverno quindi il wakizashi lo potete ancora avere e ti concedo anche il fatto che ti puoi nascondere però devi dirmi tu dove ti nascondi narrami che cos'è quella cosa che ti nasconde alla vista degli altri abbastanza da poter lanciare il tuo incantesimo in questo giardino c'è un un grosso pieni candelabri un bracciere di pietra qualche cosa del genere e mi nascondo dietro a questo cioè probabilmente ce ne sono tipo quattro in maniera asimmetrica o di più sui bordi di questo specie di giardino o portile interno che sia e mi nascondo dietro a uno di questi ovviamente che i braccieri comunque proiettano dalle grosse ombre a dipendenza un po' di come sono formati proprio taglio la linea visiva con il resto del giardino e visto che anche se ne sono andati gli ospiti lì vicino dunque l'idea è di poter fare questa imboscata questi spiriti d'altra parte come dire le luci sono disposte anche tatticamente in modo da lasciare ampie zone di ombra o penombra in cui diciamo che chi è in cerca di un po' di come dire un po' di intimità la può trovare insomma c'è c'è dell'intenzione nella disposizione sia delle luci che di questi giardini insomma mi serve tutta se vuoi tiro per nascondermi altrimenti no 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 basta solo che tiro direttamente l'incantesimo volevo sapere narrativamente come era la scena ok ok mi piacerebbe che dietro quel braciere ci fosse una coppia che stava scambiandosi poesie però no non lo è se c'è faccio finta di non vedere loro loro fanno finta di non vedere me ok vai e insomma speriamo che Kenro Gijin perché così si chiama lo spell abbraccio di Kenro Gijin me la mandi buona vediamo lo spell ok te l'ho linkato giusto per ti capire ma l'avevo letto nel senso mi sono letto tutto il tuo libro di incantesimi per essere pronto è della terra perfetto mi sento in soggezione è della terra dunque posso tirare un bel 5 di dadi però è del secondo e dunque devo fare un raise per lasciarlo in un round devo fare un 15 fondamentalmente ok tiro boom boom 29 ok ok ce la fai Shiba niente tu vedi Kitsune farti un cenno di intese e allontanarsi per andare a nascondersi nell'ombra da qualche parte io portando le braccia dietro la schiena con camminata palesemente direttamente diretta verso il nulla mi incammino in una direzione che è a metà tra Doji che si sta portando via i due interlocutori e i due spiritelli intensi nel loro duello non so che cosa voglia fare Kitsune ma semplicemente quando vedrò il momento più adatto proverò ad afferrare magari cercando di interpretare visto che me ne intendo di duello di spada i loro movimenti sono inguardabili inconcepibili sono due bambini stupidi che fanno finta di scimmiotare due samurai ignoranti certo ma se da un lato sono imprevedibili magari sono anche più lenti quindi provo a leggere un po' i movimenti di quello che sta usando la pergamena come katana e intercettare eventualmente quella mano per provare a prendere ok quindi diciamo che a un certo punto tu fai un affondo in avanti e tenti con la mano di afferrare la pergamena eh considera che a un certo punto escono due mani e sono le mani di Kitsune e Deki dal terreno ok ok e l'idea è che gli afferro le gambette a quel dannato perfetto allora tirami l'iniziativa Shiba perché succede questo Kitsune esce dalla dalla ghiaia di questo giardino con le mani che sono praticamente terra come se fosse la terra stessa diciamo e tutti i fondi letteralmente con con il suolo quindi in qualche modo è come se ritrasformassi i cami che sono in te per diventare la terra e escono queste due mani che afferrano le gambette del del Mugina che sta sfidando quell'altro usando la pergamena in mano questo terrorizzato guarda verso terra e il problema è che quell'altro che non aspettava altro lo prende con guardia abbassata e va a fare il suo a fondo e vedi che sta mirando di tirare una grandissima legnata sulla pergamena dal basso all'alto Shiba tira iniziativa prima che questo lo disarmi buttando la pergamena alla trallallà allora reflet più uno di insight 4 che 3 devi battere un 15 ok quindi riesci a avere il tempismo non serve neanche la coordinazione per afferrare questa pergamena un attimo prima che arrivi la bastonata di quell'altro che a questo punto mancando la pergamena viene ridirezionata sulla mano dell'altro Mugina il quale si butta in una smorfia di dolore mentre il secondo si piega in due dalle risate per la gag che secondo lui era sicuramente esilarante allo stesso modo e di lì a poco su questa risatina tediosa li vedete via via scomparire mentre la risatina persiste nell'aria ancora ancora un po' per poi scomparire del tutto io immagino che a questo punto Atsuko o sta ringando la folla tipo tribunale non lo so di qualche film su qualche causa tipo il caso O.J. Simpson non lo so per cercare di distrarre tutti oppure non so esattamente quando spuntano queste mani dal terreno che cosa succede il punto che adesso c'è anche la testa visto che sono spariti gli spiritelli e la testa di Kitsune che guarda terroso Shiba e gli dice onorevole finisce e si guarda intorno preoccupato hai la pergamena e tu vedi io lo osservo senza sapere se piangere ridere o che emozioni provare e finisco con l'annuire in modo vagamente ebete allora emerge emerge dalla ghiaia lo fai in piena vista ma sta guardando qualcuno beh diciamo che per farlo sei nascosto dietro a un braciere se vieni su in piena vista chiunque diciamo con lo sguardo stia scorrendo il giardino vede uno che viene su allora stavo per salire però dopo vedo lo sguardo spreoccupato dei miei tuoi compagni e allora torno lentamente ad affogare dentro diciamo immaginati questo giardino in penombra con i bracieri e tutto quanto però in un punto a caso ecco saresti comunque abbastanza visibile se cerchi invece con un po' di criterio l'attimo d'ombra poi ne puoi riaffiorare senza grosse problematiche sicuramente i quattro seppun che stanno tenendo d'occhio il giardino hanno visto tutto io penso che mi immagino la scena così in lontananza vedo questa specie di emersione dalla ghiaia con i miei due interlocutori che danno le spalle esatto e tu che fai la faccia di piombo esatto in mezzo tra di loro con gli occhi sgranati in mezzo allucinata e tu che stavi dicendo d'altra parte nel sesto secolo nella famosa battaglia di Ukimori esatto ancora mezzo terroso sporgendo la mano per ricevere la pergamena e spero che questa volta non ci sia la lista della spesa sopra faccio un inchino all'aria come mi avete spesso visto fare e ringrazio Kendro Gigi in rama plus più rivolte l'idea che faccio cadere l'incantesimo che durerebbe altrimenti plusiori ore anzi durerebbe un'ora a dipendenza delle rise faccio cadere l'incantesimo aspetta sì durerebbe durerebbe abbastanza tempo faccio cadere l'incantesimo e spero che facendo cadere l'incantesimo da me cadi anche tutta la terra insomma sì sì sostanzialmente immagino che quando lanci questo incantesimo tutti nel momento in cui entri nella terra diventi terra e nel momento in cui riemergi ti riformi un po' come hai presente che le cinque sfere che avete sulla scheda è perché tutti gli esseri viventi sono fatti dei quattro elementi e gli uomini sono fatti anche del vuoto è come se semplicemente tu per un attimo ti spogliassi delle altre sfere e rimanessi solo terra quindi nel momento in cui ritorni su è come se il corpo si ricostruisse dunque non è né sporco né pulito né cambiato dunque ritorni fuori pulito immacolato come eri prima neanche le mani impolverate mi controllo mi controllo le vesta perché non ci credo io stesso e poi mi ricompongo un po' guardo le guardie che hanno visto ma non hanno visto e poi guardo i miei compagni mi raddrizzo gonfio il petto e prendo in consegno la pergamena e dico siamo siamo un buon siamo un buon gruppo riferendosi alla caccia di prima e alla caccia di adesso vabbè io lo osservo e gli dico come stanno siete incredibile e gli consegno la pergamena con gli occhi vagamente accesi come quelli di un bambino cioè ho visto per carità degli Shugenja però magie così particolari e soprattutto così plateali nel mezzo di una corte non mi era mai capitato soprattutto oltretutto anche sfighe così specifiche perché c'è da dire che avete appena visto degli spiriti prende di punta Kizune senza un buon motivo e Kizune fa gli spiriti del reame danno riferendosi all'ovetto e gli spiriti del reame prendono e si sbatte ancora un po' le veste che non sono sporche ma lui lo fa di riflesso perché avete il sospetto che molte altre volte ha fatto lo stesso incantesimo e ha fallito ed è uscito sporco di terra dalla testa ai piedi io un po' perché tutto quello che è successo è talmente assurdo che ho bisogno di un bagno di normalità la prima cosa che faccio sempre con i miei due interlocutori quando vedo che la situazione è tornata a una una specie perché a questo punto posso definirla solo una specie di etichetta gli faccio ah ma non vi ho ancora presentato e vedi che il leone fa il giro con gli occhi praticamente che vuol dire oh mio dio ok vi intrattenete per un po' con questi due sconosciuti che sono lui è un militare del 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 leone e lei invece è una funzionaria di di mezzo rango probabilmente dei dei doji quindi non un militante ma più che altro qualcuno che si occupa degli affari delle famiglie dei terreni e cose così e sì due persone assolutamente normalissime che stavano facendo la loro serata prima che voi gliela rovinaste e da qualche parte comunque sul tetto di una delle locande del di Zuma il paese dove siete ci sono due due mugina seduti che si stanno dando di gomito ridendo e facendo i versi di quello che hanno fatto quindi come dire muovendo una mano di fronte al linguine facendo ah 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 e quell'altro ride e fa e poi quando abbiamo fatto con le spade ah 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 e passano la serata rivangando le vostre facce e le vostre preoccupazioni e dandosi di gomito prendendosi beffe di voi e del vostro onore sappiatelo ad essere uno spirito che bello però insomma abbisco l'essere più vicino possibile a loro ma non troppo però vabbè insomma mi terrò la mano sulla mia pergamena per tutta la serata comunque giusto per dire è un po' sbalcita ma è ancora pulita e intera va bene solamente un po' spiegazzata su un angolo cosa che sicuramente od oggi vedrà ma è comunque ancora assolutamente decorosa mi dispiace che non abbiano ancora scoperto le proprietà dell'ammoniaca in questo momento storico però altrimenti ti avrei consigliato di lavarla con quella effettivamente oddio a su corruzione no no gli spiriti del reame e dei trickster non hanno niente a che fare con il Jigoku con la correzione del male solo per via trasversale però sì vabbè sono solo malevoli ma non maligni grazie